Serve sangue zero negativo è l'appello di una famiglia di agropoli ai cittadini e donatori di sangue mia madre ricoverata presso il san luca di vallo della lucania e necessita di trasfusioni continue chi può compia un gesto d'amore solidarietà e questo l'appello disperato di una cittadina agropolese alla comunità affinché possano essere garantite ogni giorno a sua madre le trasfusioni necessarie in questo momento fa sapere il presidente dell'avis di agropoli rosario capozzolo c'è necessità di sangue presso il nosocomio vallese chiunque voglia donare può farlo recandosi presso la nostra unità di raccolta in viale lombardia numero 53 dalle ore 8 alle ore 12 ad agropoli oppure all'ospedale di vallo della lucania i giorni di raccolta ad agropoli sono il lunedì il giovedì e questa settimana anche sabato 18 presso piazza della repubblica con l'associazione admo e domenica 18 luglio in sede sempre dalle ore 8 alle ore 12 per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 3 4 5 83 89 6 6 7 oppure 0 9 7 4 27 17 7 5 0 donare sangue fa bene anche al donatore non perché si sottopone a un salasso utile per le malattie da accumulo di ferro nel sangue oggi poco praticato ma perché l'azione del donatore comporta una presa di coscienza dell'individuo che è stimolato a mantenere uno stile di vita sano donare sangue quindi vale il doppio perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore infatti il sangue raccolto prima di arrivare al letto del paziente è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere epatiti e AIDS sia per scoprire valori ematochimici che possono rilevare malattie del donatore basta davvero poco per salvare una vita